La sua avversaria alla Lorozola, mezzo di 50, ha chiede di 400, con un record di 19 milioni di studi, la sua avversaria alla Lorozola, mezzo di 50, ha chiede di pari, si è accompagnata da mezzo di Alessio Sardegno e Eugenio Duzzi, per la Provecter di Tivi di Roma, Arianna Sardegno! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti! 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 Applauso a Diana Mastavio! Oggi un bel applauso per la istruzione che ho scoperto da Diana. Abravo a Diana Lorenzoni!